stiamo avvicinando il santo che viene del sasso questo è un po' un'altra cosa stiamo avvicinando il santo che viene del sasso un po' 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 un complimenti vivissimi, viva la giovinessa, qui è la quinta, vuole prosecuzione, non ho capito, adesso andiamo giù a piedi e vediamo il lago, dopo l'insalita prendiamo l'ascensore. Grazie. 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 Spiace mettiti lì. Qualcosa il punto li d'angolo. Affiniti di guada giù e guarda un po' a me. Sì, è impensabile se becchiamo il battellini. E dove andiamo? No, no, noi andiamo giù. Vabbè, ok. Guarda qui c'è il... Sì, io vado avanti. Mottonella, torchio da uva e da olive. La vita e il travenso la distanza della freccia. Il regolamento delle tre pazienti che non avevano... ...la scondenza del vino giugno. Se si prende un'ultima stessa... ...basta. ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. C'è anche il corpo dell'eremita. Se lo vedi dentro lo vedi in fondo. Grazie a tutti. 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 Ci sono i biglietti. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. qual è il cappello? Passo, grazie. Passo, grazie. Passo, grazie. Passo, grazie. Passo, grazie. Passo, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono graziosi? Il biglietto? 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 E' questo, grazie. E' finita la gittarella, attuata con una Bloggy Sony, con davanti una lente planiforme, che è migliore, potrebbe migliorare leggermente la propostà della macchina, della sonica. E poi la composta di video composizione è fatta con Magix, di Deluxe 17 Premium. Vi saluto. La Bloggy. Con davanti le lente planiforme e per maggiori effetti di presa in 3D. Vi saluto.